via con springhia zon attuno anelle prima di tutto e questo è un passaggino segreto con la scarpa velocizzante e la vita no 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 devo fare prima quella cosa figa non ci riesco a fare la cosa figa ma volete dai su su no c'abbiamo fatta ma volini vado qui in cima la velocità della luce no se ne va spungendo come sempre devo andare sul isolotto qua sulla piattaforma che isolotto non ve lo dico ok adesso vado qui in cima adesso di chat down destra sinistra cpu ma è vero che qua c'è no dannate un po' le mosse possono essere utili che inutili le mosse no specialmente in questo caso poi c'è anche il passaggino segreto non mi va di fare i blocchi che si muovono alla velocità di super mario che di super mario che ha mangiato un fungo rallentatore che non ha dormito per tre notti non prendo la mano non prendo la mano però passo per pa pa 8 2 muoviamoci qui no brutti brutti questi qui sono molto vastati perchè devi sempre colpire così altrimenti ci trafiggono un po' oh mio povero dai su dai no ove senti ove senti no porco dici no porco volo porco volo dai su dai su dai su dai su dai su dai su i canali qui non non fanno mai niente di buono allora ce la farò se Dio vuole e Dio ha voluto ce l'ho fatto tocco se mi rompi la palla poing fiii fiii fai la super sonic mente oddio questo è il pezzo più baricoso di questo gioco oltre al livello dell'acqua non vi ricorda qualcuno i dieci sono i soldi e super maria sony no fai prenderlo scudo ahhh no dai su marco dici dai se ti vuole mamma mia luigi a bimbo a rade oh adesso devo riuscire a riuscire oh si ce l'ho fatta è stato difficile ma ce l'ho fatta grazie a chuck norris che non mi ha aiutato niente però dai levati dal cavolo giù ok to 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 chiede lì per gli animaletti no capo volevi del capo aia bastard schwarzenegger magari farò uno speciale in cui commenterò dei film tipo tipo terminator roba del genere in cassetta li commenterò fammi prendere quel ternate anelle porco dici eh oh finalmente adesso fammi andare giù ecco grazie thank you oh ca e atto 3 e qui dopo questa zona e a questo atto finalmente incontriamo dottor egg mona chi è che è il mona che sparte la porta e te l'hai chiudo orlando l'ha già la steg ditta no 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 che bastardo perchè me lo fai quando sono più vulnerabile bastardo vengo su e ti ammazzò oh calma che perchè altrimenti qua si fa una brutta figlia sai su dai non ci arrivo devo arrivarci no vabbè fa lo stesso non mi va se non ci arrivo ci metterò tutto il giorno anzi tutta la notte e sera non mi va 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 avanti tutto bastardo figlio di di buona madrina Sì, sono andato fuori dallo schermo e non sono morto, ma lo scherzo, è tutto nella norma, credo. Dai, su, fai giù, dai su, vieni giù, dai, io, aiutami. Ah, finì però la città, adesso faccio una bella palla, così non mi rompe il cavolo quella dannata palla demolitrice, aia, queste me le rompono sempre però le balle, ecco, sì, andiamo giù, dai su, su, no, adesso devo prenderla in corso perché la lì non c'avevo, va, riprendo dal punto dove ero ieri sera perché mi si è spento il cellulare mentre filmavo, quindi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo su che c'è la vita va, andiamo, c'è qualcosa non c'è niente, adesso aspetta che prenda anche un'altra vita così, se non posso, ecco, è una vita, è un'altra vita, adesso andiamo, wow, c'è che, guarda, ecco, ma ci vuole rifinzare quella spina e ci vuole tirar via le piattacole, ma capiamo perché altrimenti, eh, ma io l'ho fermato in tempo, top, brutto, bastardo, figlio di buona madre, ah, chi è, no, devo fare una cosa che, del mondo, allora, ce la faremo, se Dio vuole forse, vedrò un piccolo anticipo sulla prossima zona, sarà la brinzone e sarà il livello d'acqua, dove sono i codi all'acqua. Arrivederci al prossimo video, alle 10 visualizzazioni farò la prossima parte.